Più tutele per le forze dell'ordine, gli onorevoli di Fratelli d'Italia, Giovanni Maiorano, Augusta Montaruli e Dario Iaia hanno presentato questa mattina il pacchetto sicurezza, ovvero l'insieme di norme a tutela delle forze dell'ordine che il governo Meloni ha messo in campo proprio per agevolare e per tutelare al meglio gli uomini e le donne in uniforme. Anche se la realtà di Taranto non è poi così rosia, considerata all'età media nelle forze di polizia e gli organici carenti, per non parlare poi della contrattazione discussa di recente a livello nazionale che ha visto le polemiche delle sigle sindacali per pochi spicci riservati nel contratto. Onorevole, si parla di norme a tutela delle forze dell'ordine, secondo lei il Dipartimento ad oggi ha la giusta attenzione per le forze dell'ordine, soprattutto su Taranto che risente di una carenza di personale. Intanto do la notizia che a livello nazionale c'è una distribuzione, una pianificazione per l'entrata in servizio di 4.800 persone del comparto sicurezza su tutto il territorio nazionale e quindi questo sicuramente è un gran respiro per tanti territori, compreso quello di Taranto. Però certamente con il governo Meloni è iniziato un cambio di passo nei confronti del tema della sicurezza, si è visto fin dalle prime mosse di questo governo con il coinvolgimento dei sindacati delle forze di polizia proprio sulla manovra di bilancio e proprio da quella manovra sono susseguite tutta una serie di provvedimenti tra cui anche la contrattazione che sta avvenendo su un nuovo contratto che interessa questo comparto. E poi c'è il pacchetto sicurezza che tutela le forze dell'ordine? Ma tutela anche i più fragili nel obiettivo di rendere più sicuri i nostri territori. Ma da fratelli d'Italia assicurano questo governo, dicono gli onorevoli, non è ostile alle forze dell'ordine e l'impegno è tanto affinché siano adeguatamente tutelati e affinché sia riconosciuto loro anche un adeguato stipendio. Pacchetto sicurezza, norme a tutela delle forze dell'ordine, di recente a Palazzo Vidoni si è parlato di contrattazione, alcuni sindacati hanno lamentato pochi spicci per le forze dell'ordine, come risponde? Rispondo che in effetti posso condividere questa loro lamentela, ma posso sicuramente garantire che da parte nostra ci sarà tutto l'impegno possibile affinché le loro richieste possano essere sicuramente soddisfatte. È un momento difficile, è un momento di grande sacrificio da parte di tutte le nostre donne e uomini in divisa, sia delle forze dell'ordine sia delle forze armate, ma quello che noi vogliamo rappresentare oggi anche con questo convegno è comunque la vicinanza che abbiamo nei loro confronti. Parliamo un attimo di Taranto, lei è anche un poliziotto. Negli anni 90 uscivano 10 macchine a presidio del territorio. Ora ne abbiamo sei, quattro della Polizia di Stato, due dei Carabinieri. Anziché andare avanti andiamo un po' indietro. Come pensa che si possa affrontare il problema della pianta organica e dell'età media? Ovviamente solo ed esclusivamente con nuove assunzioni, con nuovo personale che viene regolato e anche questo è stato fatto già nei primi mesi del nostro governo. Io stesso sono stato anche artefice dell'ampliamento di alcuni posti messi a concorso nella Polizia di Stato, nei Carabinieri. Quindi sicuramente è anche quello in questione economica. Sicuramente c'è stata già l'attenzione di questo governo per poter ampliare. Adesso c'è una nuova ripartizione su tutti i territori di nuovo personale perché in effetti, e lo condivido soprattutto al sud, l'età media è molto più alta rispetto al resto d'Italia. È sicuramente una nuova linfa, nuovi innesti di nuovi operatori, sicuramente potrà essere d'aiuto alla sicurezza della città. Quando si parla di tutele per le forze dell'ordine si parla anche di sindacati. La legge corda ha introdotto i sindacati militari, però è una legge che lascia molte perplessità. Lei pensa che il governo Meloni possa in qualche modo muovere un'azione per rafforzare le prerogative sindacali dei militari? Intanto siamo intervenuti su una richiesta che era pendente da tanti anni. C'era una richiesta in questo senso. Il governo ha avuto la sensibilità di intervenire con un provvedimento così come ha fatto poi il Parlamento. È chiaro che ogni provvedimento è migliorabile, si comincia un percorso così come è avvenuto anche per le altre categorie lavorative e poi nell'ambito di questo percorso sicuramente potranno essere adottate anche le misure per migliorare il provvedimento stesso.